Per i lettori di Daily Basket la presentazione della partita di domenica sia a Scafati con Gino Quasapiro già nel merce di Givo Scafati. Gino, qualcosa sulla partita? Innanzitutto questa partita assume un significato particolare perché è il nostro esordio casalingo quindi chiaramente ci teniamo a vedere e a fare una partita con il nostro pubblico che ci ha sempre seguito. Tecnicamente la partita è difficile perché giochiamo contro una squadra blasonata seppur risorta dalle ceneri della mensana. Un roster ben attrezzato, allenato bene da Coach Ramagli però per quanto ci riguarda abbiamo fatto questa settimana di allenamenti molto forti e intensi proprio per prepararci al meglio a questa gara di domenica. Va bene, grazie.